Questo video messaggio è dedicato a Egiziano Andreani. Come noto io non è che faccia segreti che io utilizzo spessissimo l'asta che io sto con Salvini. Beh, anche qui ho un secondo che vuol dire esattamente io non sto con Andreani Egiziano, capogruppo in comune per la Lega. Colonna storica senza dubbio, 25-30 anni non mi ricordo nemmeno quant'è che lavora per la Lega, però bisogna ricordare che in questo Consiglio Comunale tuttora vigente anche se ci sono delle grandi sorprese in arrivo per quanto riguarda la durata della gestione dell'amministrazione Chinelli, alla quale la Lega si è votata completamente, con il resto la senatrice Nizini. Mi dispiace Egiziano, ma l'hai fatta grossa. Quando abbiamo letto che il sabato mattina i partiti politici, e questo è tutto da vedere perché sarebbe brutto se fosse vero che, per esempio, tu non hai avvisato il direttivo provinciale che non ne sapevano nulla, non hai avvisato di certo quelli che sono i tesserati, i non tesserati, i simpatizzanti, quelli che poi lavorano molto per te e molto bene, te lo garantisco. Come si fa? Avendo perso 25 comuni su 25 alle ultime amministrative, abbiamo vinto a Cortona dove certo l'impegno tuo, di alcuni, non è stato bello. Le parole che sentivo spesso non lo votano, Meoni, non gli piace. Beh, è piaciuto e è stato votato moltissimo. Giziano mi dispiace, ma credo che per la Lega, qui è di Arezzo, non ci sia spazio e stai attenta a come ti comporti perché se fossero i problemi per risolvere questo problema con la Lega di Milano con Matteo Salvini e i suoi collaboratori è evidente che, te lo dico a nome di tutti i simpatizzanti aretini della Lega, ci sarebbe una sola soluzione, staccarsi completamente dalla Lega e fare una lista civica. Pur con i programmi che sono bellissimi della Lega, pur essendo vicini a chi sarà veramente il nuovo candidato a sindaco, che non può essere Ginelli, non può essere perché non lo votano. Lo dice uno che gli ha fatto arrivare 1600 voti al ballottaggio e mi troverà a fare tante scuse, molto più di 1600, è l'impegno che ci ho messo. Non ho ricevuto un grazie ma non mi interessa, ho ricevuto una sedia ma non l'ho mai voluta. Non ho capito questo atteggiamento del sindaco Ginelli che già 10 ore dopo la sua elezione alle 10 del giorno 16 di giugno 2015 era dal rettore magnifico dell'università dove lavorava per fare gli orari quando il rettore ha detto scusa ma il mandatario elettorale non ti ha detto che non puoi lavorare, sei il sindaco, volevi fare il sindaco e basta, non può lavorare nello studio, non puoi nemmeno venire qui. Da quel momento è stato un buio su lui che è durato quasi una settimana, lo cercavano da tutte le parti tutti e non si trovava. Lo shock per lui è stato grosso perché, come si sa, non è uno che non ama il denaro, è sentire dire che la sua vita sarebbe cambiata, che avrebbe dovuto campare con 74 mila euro che è lo stipendio più o meno del sindaco di Arezzo che è sotto i 100 mila abitanti. Iniziano, non puoi far uscire un comunicato senza poi modificarlo che tutti i partiti hanno deciso di andare, forse Italia si sta sciogliendo come un giacciolo al sole. I partiti d'Italia che sono molto stati bravi, per esempio nel penultimo consiglio comunale, quello dove c'era il famoso golpe per la Casa Pia, non sono nemmeno venuti, non hanno votato nemmeno il bilancio e su questo c'è della responsabilità grossa anche della Lega che non ha preso nemmeno una posizione, nemmeno in questo momento in cui il sociale è importante, la Casa Pia nel sociale ha un grosso riferimento. È venuto a difendere sempre e per forza. Non so, egiziano, ti piace, ti conquista, ti dice che ti fa, ma voi alla Lega cosa avete preso? Cosa avete preso alla Lega? D'accordo avete preso pochi voti perché ci sono consiglieri, tu che sei quello che ha preso più, ha preso 87 voti come capolista, ma gli altri c'è gente che con 14 voti lì insomma non rappresenta nessuno, nemmeno l'entourage dei familiari. Sbagli a non avere mai voluto dare le tessere e a volere socializzare diciamo quelli che sono gli attivisti veri della Lega con tessera o senza tessera, poco importa. Non puoi fare un cleppino, usare una sede che è quasi sempre vuota e non avere nemmeno pensato di mettere un cellulare, solo ricevimento. Spesa mensile 9 euro, cellulare io e tanti altri abbiamo detto ve lo diamo voi, vi facciamo la fattura alla Lega. Cioè questo lavorare sotto terra, borderline con Ginelli, Ginelli non si presenterà come sindaco. La reelezione è impossibile. Ha fatto tanti di quei casini e tanti ne farà ancora perché si sta incattivendo. Tu vorresti rileggere Ginelli che nel frattempo l'aveva abbandonato, trattato anche male, parlato anche molto male e camattuta tutti i portoni, le porte, portoncini, le porte girevoli che esistono in Toscana e anche fuori dalla Toscana. E la risposta è sempre stata, no, grazie, caro Ghidedi, non ci interessa, non può interessare. Ci saranno molti video messaggi dedicati al sindaco. Mi dispiace, non voglio inserire sulla situazione che è molto brutta, ma vedete, io prima di qui sono stato in procura e in procura ci sono delle cose che riguardano Ginelli, anche molto assurde. E lui, britto, va avanti, forse perché si sa ad avere i magistrati dalla sua parte, e ve lo mostrerò in un altro video messaggio, sa ad avere il prefetto dalla sua parte, il prefetto che dovrebbe controllare i lavori del Consiglio Comunale e che non sono stati mai fatti. Quando io cerci i documenti, caro Ghinelli, tu hai fatto in modo che non lo riceversi, ma sono atti pubblici, se non gli dai meri della RAIA Carabinieri. E poi la vergogna, la vergogna di trasformare un Consiglio Comunale, proprio il penultimo, quando si parlava di Casapia, che poi non se ne è parlato ovviamente, che è venuto a mancare il numero legale, ma che tu non hai venuto testimoni perché hai chiuso, hai blindato il Palazzo Pretorio, per cui nessuno, compreso me, è potuto entrare dentro. Ma esiste un filmato, anche se l'hai ritirato dal sito del Comune, il filmato esiste, è pronto, c'è l'audio, ci sono i documenti, documenti anche abbastanza occulti, perché la chiusura, per mancanza il numero legale, non è stata scritta da nessuna parte, ma è stata scritta tre volte, in effetti ci sono stati tre appelli, naturalmente in pochi minuti, dalle 35 alle 3.09 e tutto è finito. Ero lì, ero lì dalle 10 minuti alle 3 e sono rimasto lì fino alle 3.30, ma mi è stato impedito l'ingresso in Palazzo Pretorio. Questa è una cosa molto brutta di cui dovrai rispondere, non solo a me, ma a tutti i tuoi elettori e soprattutto al Prefetto. E poi ci sarà la necessità, anche alla società giudiziaria, che non potrà essere bello. Ecco, chi vuoi mettere tu a rieleggere, aiutarlo? Cioè, poi il sabato, quando avete perso 25 comuni su 25, in molti comuni non c'era nemmeno la lista, egiziano. Bisogna che tu ti dimetta, faccia la tua vita, sarai sempre nel nostro ricordo, ma da ora in poi, egiziano, tu non puoi più stare alla Lega dei Regi. Tu non puoi permettere che venga fatta una lista civica piena di registi e simpatizzanti a retini in Lega. No. Tu devi lasciare spazio ad altre persone. Che venga il commissario è quasi certo. Fallo prima, fai un bel gesto, dimettiti e se credono opportuno quelli che ti supportano, si dimettono anche a loro. Lo dovete, lo dovete fare perché è una cosa che vi metterebbe in buona luce con quelli che sono poi i vostri elettori. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba. Grazie a tutti.